ciao a tutti bentornati o benvenuti sul mio canale siamo qui oggi con il video dei miei prodotti makeup preferiti del 2021 sotto i 15 euro quindi quelli low cost ho cercato qualcosa appunto per tutte le categorie e io direi di iniziare dalle sopracciglia un prodotto rivoluzione di quest'anno è stata senza dubbio la penna lift and snatch di nyx ed è praticamente l'eyeliner per le sopracciglia mi trovo veramente benissimo l'ho utilizzata anche oggi a me non piace sapete fare la tecnica pelo pelo mi piace però utilizzarla per andare un po a ricrearmi la shape quindi fare più un effetto tattoo e con questa riuscite appunto sia a dare un effetto più naturale sia più finto invece per quanto riguarda le matite assolutamente questa di shane queste matite sono fenomenali perché sono uguali praticamente a quelle di benefit questa ha la punta più cicciottella a forma di triangolo mentre l'altra la classica micro pencil mentre per quanto riguarda gli occhi come primer ho riscoperto la ruggiata per makeup che devo dire fa una bella base questo sappiate che è super trasparente quindi non vi da a dare colore però da una bella base appiccicatina e in più questa è perfetta anche per andare a miscelare i pigmenti o i glitter e andare a creare appunto un ombretto o un glitter liquido da poter applicare semplicemente con un pennello quindi è top eyeliner ovviamente epic ink sempre di nyx questo è fantastico amo il fatto che abbia la punta in setole quindi da praticamente la screvenza di un eyeliner liquido però la comodità di un eyeliner in penna ovviamente non posso non menzionarvi la base per glitter di nyx sapete quanto io la amo quanto io la utilizzo sempre anche come base sotto agli shimmer per andare ad esaltarli al massimo non fa andare i prodotti nelle pieghe quindi è top per quanto riguarda gli ombretti sapete che io ho principalmente palette comunque high end ho trovato queste nella makeup collection di mia mamma e sono pazzesche ovviamente prima di dirlo le ho approvate e questa nuova linea di revolution perché queste sono le palettine di high heart revolution hanno una qualità che si può benissimo trovare in palette super high hand vi faccio vedere qualche swatch giusto per farvi capire a parte che sono burrosissimi qua ho qualche swatch dalla palette peach cioè raga io sono rimasta veramente scioccata quando l'ho provata perché wow top hanno una qualità fenomenale e costano stra poco inoltre queste essendo piccolino ovviamente ci sono anche le versioni grandi ma queste essendo piccoline sono anche super comodi da portarsi in viaggio ho qualche swatch dell'avocado cioè sono fenomenali sono veramente bellissime ve le straconsiglio e anzi fatemi sapere se magari volete anche qui sul canale un video con queste palette ve lo faccio vedere super volentieri perché sono super super molide come matita assolutamente vi consiglio questa automatica di ivrosheni avete visto usarla tantissime volte è super morbida quando si applica si sfuma facilmente super resistente è fantastica per quanto riguarda i glitterini o comunque le cosine in pot sempre per gli occhi vi consiglio tantissimo questi ombretti in glitter di shane sono proprio tipo delle pastine glitter in pot questo è peacock ve lo faccio vedere all'interno è meraviglioso è bellissimo anche magari applicato sopra un eyeliner nero per andare a darci un effetto super particolare poi abbiamo questo che sembra bianco ma in realtà ha tutti i riflessini lilla questo avevo pubblicato un tiktok in cui appunto facevo l'unboxing shane e c'è proprio una clip in cui si vede benissimo la colorazione mentre invece come glitter in pigmento vi consiglio tantissimo questi di neve ok questi non sono assolutamente dei prodotti nuovi un po' per niente io infatti ce l'ho da tantissimo però devo dire che li ho riscoperti ultimamente questo è il mio preferito è jellyfish appare trasparente ma vedete sul nero l'effetto che dà va a dare proprio un tocco particolare al look passiamo ora alla base e come primer vi consiglio il ritual primer di astra perché va a dare sia un effetto matte è super appiccicoso è una cosa che è fantastica per un primer visto che deve far aderire per bene il fondotinta per quanto riguarda il correttore vi consiglio questi di ivroche in stick sono super comodi sono belli coprenti tra l'altro come li avete visti utilizzare spessissimo anche questi altro questo della mia colorazione l'ho utilizzato spesso non soltanto come correttore ma anche un pochino come base perché si sente perfettamente sono super cremosi arriviamo ora ai fondotinta e vi consiglio sempre di ivroche le radio mi sono trovata veramente molto bene con questo fondo elastico trovo che sia bello idratante da un effetto radioso e dura un sacco durante la giornata anche questo di wicon che non vado a leggere il nome perché ogni volta lo devo dire tipo 20 volte perché mi impappino comunque anche questo ne avete visto usarlo tantissimo lo trovo super leggero però coprente è stratificabile dura tantissimo quindi anche questo super approvato come cipria sotto i 15 euro vi consiglio la hd di nyx perlomeno la mini size la full size non so quanto costi penso che comunque sia sotto i 15 però se volete stare tranquilli provate la mini size io mi sto trovando veramente veramente benissimo va a levigare un sacco non fa flashback come blush ho preso ora questa colorazione ma in realtà un po tutte queste di essence sono super valide hanno delle belle colorazioni costano stra poco durano un sacco come terra ero un po indecisa se mettervela questa o meno vabbè a parte che io ho questa nel vecchio packaging appunto non sapevo se mettervelo o meno perché questa solitamente costa sui 19 euro vero messa alla fine perché spessissimo va in sconto tipo sui 12 euro quindi dai si stava questa inghiaccia un sacco prof ma anche di monoi come ultimo prodottino viso assolutamente non posso non consigliarvi l'illuminante di lotty london questo è praticamente il dupe forse la versione quella con meno glitterini dell'illuminante di fenty beauty questa infatti si chiama diamond bouncy bellissima però sappiate che non dà un effetto naturale proprio per niente passiamo ora all'ultima categoria ovvero le labbra il mio rossetto preferito proprio in assoluto sotto i 15 euro scoperto quest'anno è stato il nyx lingerie xxl a parte il profumo che è dolcino super buono ma raga la sensazione che dà questo rossetto è qualcosa wow di bellissimo sia da quando lo applicate che sembra di applicare una mousse manca proprio la texture super cremosa è bellissimo non è la classica texture di un rossetto liquido si va ad asciugare matte ma resta comunque super elastico super confortevole non va assolutamente a seccare le labbra è stata veramente una scoperta questo qua una rivoluzione per quanto riguarda le matite queste le amo già da tantissimo e sono le matite di neve cosmetics io spesso queste le utilizzo anche proprio come rossetto per dirvi quanto sono cremose anche queste non vanno assolutamente a seccare le labbra proprio sembra di applicare un rossetto cremoso per quanto riguarda i gloss trasparenti vi consiglio questi essence che anche questi non sono assolutamente una novità ti sono da tipo cent'anni mentre invece per quanto riguarda i gloss colorati questi di glam light perché sono tanto pigmentati che sembrano praticamente dei rossetti vinilici per essere cremosi durano un sacco ovviamente non quanto un rossetto ma se lo pensate appunto come qualcosa di glossato durano veramente un sacco quindi nulla raga questi erano tutti i miei prodotti preferiti low cost del 2021 fatemi sapere se fra queste cose c'è anche qualche vostro preferito che sono super curiosa io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box perché lì troverete tutti quanti i miei link per andare a seguirmi sugli altri miei social vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con il video dei preferiti high hand ciao grazie a tutti